Garantire una corsia preferenziale alle donne vittime di violenza, anche per favorire l'attivazione della rete preposta all'intervento. In occasione della festa della donna, il coesore di Sernia Roberto Pellicone ha inaugurato all'interno della struttura di via Palatucci una sala d'ascolto riservato dedicata alla memoria di Stefania Cancelliere, uccisa dal marito a Legnano il 27 giugno del 2012. Effettivamente è una giornata importante, la scelta di questa giornata non è ovviamente casuale, teniamo molto alla realizzazione di questa stanza. La stanza è una corsia preferenziale nei confronti di chi, soprattutto le donne, ha bisogno di un ascolto riservato, ha bisogno di condividere le proprie paure, i propri timori con il personale specializzato della Polizia di Stato, che possa appunto ascoltarle e dare loro gli opportuni consigli. Il personale della divisione anticrimine raccoglierà al suo interno, in un ambiente confortevole e riservato, richieste di aiuto e segnalazioni, al fine di interrompere sul nascere qualsiasi criticità che riguardi l'ambito lavorativo, familiare o sociale. Noi divulgheremo anche dei numeri telefonici a cui rivolgersi, oltre ovviamente al 113, che nell'AC24 per raccogli qualsiasi tipo di denuncia, ma ci sarà anche un numero dedicato da contattare per concordare un incontro con personale della divisione anticrimine, che è proprio specializzato a affrontare casi che riguardino violenza di genere, in modo tale da poter essere accolti in questa stanza che, come avete avuto modo di vedere, è una stanza molto accogliente, riservata, che è al di fuori dell'ufficio denunce, volutamente, proprio per consentire alla donna di confrontarsi e ricevere i consigli necessari per affrontare situazioni di disagio. In provincia di Sernia sempre più spesso le donne vittime di violenza decidono di rivolgersi alle forze dell'ordine. Proporzionalmente all'incremento delle richieste di aiuto, tuttavia, aumentano anche gli episodi non denunciati, per timore o semplicemente per pudore. In provincia di Sernia io, da quando sono arrivato ad Sernia, ho firmato circa una decina di provvedimenti di ammonimento nell'ambito della provincia. Sono situazioni che seguiamo costantemente. Così come seguiamo le situazioni pregresse, situazioni che si sono negli anni scorsi risolte, noi continuiamo a monitorarle per cogliere eventuali segnali che ci possono indurre a riaprire queste situazioni apparentemente chiuse. Segno di grande attenzione da parte della Polizia di Stato e della divisione anticrimine che si occupa di questi aspetti.